ciao a tutti bentornati sul canale 4kitech per parlare in questo video della differenza e in momento del mercato tra i tablet e i pc portatili perché diciamo questa evoluzione del portatile che c'è stata che è il tablet che è nato qualche anno fa ha portato una rivoluzione in questo mercato e oggi si vedono poi le conseguenze di questa rivoluzione tantissime persone si chiedono e si domandano il tablet può sostituire completamente il portatile i portatili che tipo di segmento di mercato hanno allora io premetto inizio così all'inizio alla nascita del tablet ho pensato subito che il tablet poteva soppiantare quindi sostituire completamente il portatile ma furbamente forse i produttori di computer portatile che poi sono le stesse aziende che fanno anche i tablet sono riusciti a fare degli ibridi che stanno un po muovendo il mercato in una direzione in cui possono convivere sia i tablet che i portatili quindi esiste questa convenza si è il futuro eroso per entrambi come gli smartwatch e gli orologi diciamo da polso normale che abbiamo già fatto un video quindi questo cosa comporta che attualmente sul mercato ci sono dei bellissimi portatili che oramai hanno tutte le entrate academy schermi in full hd quindi sono evoluti ma soprattutto si possono avere dei portatili con lo schermo ovviamente col tacco lo schermo a tablet che viene poi tolto e quindi può essere utilizzato sia con la tastiera come tablet diciamo esterno quindi tolto dalla tastiera questo vuol dire avere sia il tablet che ha un portatile quindi degli ibridi e questo ha fatto sì che appunto si potessero affiancare ai tablet poi queste evoluzioni nelle linee molto sottili con comunque caratteristiche tecniche hardware dei portatili parlo molto più potenti a livello di processore di scheda video e questa leggerezza che oramai fa la differenza certi adesso incominciano a produrre i 13 pollici portatili parlo sempre con tastiera con schermo in full hd in 4k addirittura quindi un'evoluzione che permette di avere quasi la portabilità di un tablet quindi diciamo che furbamente i portatili si sono migliorati nella dimensione quindi l'energonomia nel peso e nelle caratteristiche tecniche per assomigliare di più ai tablet e non scomparire quindi adesso esistono i tablet e dei portatili veramente portatili quindi c'è questo segmento di mercato a due vie in cui entrambi hanno una loro un loro perché chiaramente averli tutte e due secondo me è un di più o il portatile o il tablet no non è un di più si possono avere entrambi il portatile è un windows magari come sistema operativo quindi chi ha piacere appunto dell'ultima versione di windows 10 che è molto veloce molto molto cool molto modernizzata versione quasi smartphone no con tutte le icone quindi un windows che si è migliorato tantissimo nelle ultime versioni di sistema operativo è molto utilizzabile molto più sicuro o chi vuole avere il tablet insieme al pc portato sono due usi differenti il tablet è un sistema operativo android che può essere utilizzato o ios che può essere utilizzato a parte e di là possiamo avere un portatile con windows appunto con tutte altre funzioni si possono portare in giro tutte e due oppure scegliere uno scegliere l'altro che adesso windows 10 offre possibilità simili al tablet vediamo i surface che sono presenti dei tablet integrati con la tastiera quindi c'è anche questa evoluzione di avere entrambe le cose praticamente ma quindi c'è questo mercato che si va uno ad affiancare all'altro quindi cosa troviamo oggi sul mercato i tablet e dei portatili rinnovati moderni stile tablet diciamo quindi due segmenti di mercato quindi grazie al tablet il portatile si è migliorato ed è riuscito a diventare un portatile moderno e non scomparire ma migliorarsi quindi vedo un futuro per entrambe per entrambi i dispositivi tablet oramai avviati serve qualcosa di più innovativo ormai sono tantissimi di qualsiasi marca fasce prezzo entry level medi alti di gamma nei tablet c'è veramente una scelta vasta di android gli ipad che comunque non ha sempre il loro mercato e poi ci sono i vari appunto i vari vari windows surface i vari tablet anche di windows eccetera eccetera quindi il tablet da una parte e i portatili che si migliorano diventano più leggeri sottili assomigliano di più ai tablet possono essere combinati quindi essere tablet con tastiera integrata e quindi due mercati differenti che possono essere utilizzati insieme o separatamente quindi la domanda la risposta alla domanda uno soppianterà l'altro c'è il tablet soppianterà la portata del no il tablet ha migliorato il portatile ci sono due prodotti che si possono usare se insieme che separatamente si può avere tutte e due o uno dei due diciamo che un tablet fatto bene diciamo può tranquillamente fare le funzioni anche del portatile ma non completamente quindi servirebbe sempre avere un portatile secondo me insieme ad un tablet perché si ha una portabilità diciamo multimediale più completa però qua stiamo parlando proprio di esigenze estreme se no si può tranquillamente usare un portatile o un tablet da sole si possono fare comunque le operazioni quotidiane tranquillamente prezzi prezzi di mercato per avere un buon tablet allora i portati oggi veramente si fanno degli affari si possono portare via dei portati a 200 250 euro con memoria ottica quindi importante che abbiano il masterizzatore e il cd ovviamente per poter leggere e masterizzare perché chiaramente tanti vendono il portatile a 2 250 ma non ha la memoria ottica integra quindi non avendo il lettore cd e neanche il masterizzatore è una difficoltà bisogna taccare l'esterno quindi l'affare si fa 200 250 euro col masterizzatore e col lettore cd incorporato più preso usb la presa academy con delle bolle in soluzione non in hd ma comunque con ottime risoluzioni si trova anche qualcosa in hd sotto i 300 euro già e quindi voglio dire sicuramente con meno forse nel costo di un tablet si porta via un portatile quindi forse se ci si guarda intorno conviene avere un portatile più modernizzato che un tablet quindi veramente guardate voi da 200 a 350 euro da 200 a 300 euro portate via sia un tablet di fascia medio alta sia un tablet di fascia medio buona quindi non avete nessun problema nella scelta uno l'altro tutte e due perché ha le possibilità cioè veramente il mercato offre tantissime possibilità quindi secondo me il tablet ha migliorato il portatile pensate un po poi il mercato come stanno all'inizio pensavo che il tablet avrebbe sostituito avesse sostituito il portatile invece alla fine l'ha migliorato e l'ha reso più moderno e più portatile il futuro potrebbero essere sempre di più libri cioè il tablet insieme alla tastiera che può essere scomposto quindi si può usare sia come tablet che come portatile magari con la memoria ottica integrata come qualcuno incomincia a uscire chi lo sa però vedo che i portatili tengono bene a botta quindi che dire promoviamo entrambi i dispositivi e sicuramente possiamo oggi dire che il tablet al momento non sostituirà il portatile ma lo ha migliorato e ci sono due prodotti sul mercato che migliorano sempre di più e sono usabili per tutti questo era il video breve ma secondo me magari utile per chiarire le idee su quello che sarà il futuro e su quello che sono questi due dispositivi oggi è perché se magari dovete fare un acquisto di questo tipo mirato sapete magari con qualche consiglio sempre che vi posso dare nel mio per quello che io posso posso informarvi sull'acquisto di entrambi o di uno dei due dispositivi. Alli prossimi video con 4kpe tech da Paolo Guala grazie alle prossime ciao ciao